Ragazzuoli, benvenuti nella mia nuova fabbrica. Come avete letto dal titolo, oggi proveremo Beer Factory Prorogo. È un titolo ancora in accesso anticipato, uscito il 13 marzo. Lo trovate su Steam in modo gratuito e se volete scaricarvelo potete farlo benissimamente. Dunque signori, come detto, quest'oggi mi hanno assunto in questa fabbrica di birra. Veste considerato che nessuno vuole venire a lavorare in una fabbrica di birra, questa è una volta buona che divento un alcolizzato specifico. Dunque allora apri la porta dell'ufficio della fabbrica, benissimo. Abbiamo la solida chiave? Ah vabbè. Comunque, allora preparati un caffè, permette di fare uno sprint e uno sprint. Beh, uhlala, ma veramente. Ok, benissimo, perfetto. Caffettino, eccolo qui. Olè, a posto. Ah, che bellezza. Un buon caffettino di primo mattino. Ci sta tutto. Osserva la scatola dei fusibili. Vediamo un po'. Eccola qui. Perfetto. Trovo il fusibile e afferralo, perché me lo segnala con, eccolo qui, il punto esclamativo. No, 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 stai buono, stai a cuccia. Il fusibile è posseduto dal demonio. Bene. Eccolo qui, aspetta un attimo. Olè. Oh. Ma come il vero proprietario? Ma non è vero. Ma scusi, signor Francis, ma scaccia il vagabondo lanciandogli contro degli oggetti, ma è ubriachissimo. ma... Guardalo come dribbla. Ammazza. Ma che è, Spider-Man? Ah, signor Spider-Man. To, becca di questo. Eh, che cos'è? Brutto maleducato. Allora, hai ricevuto un nuovo elemento di messa, appunto. Un propano. Trova la prima forca. Ma come trova la prima forca? Ma questo qui? È ancora qui? Oddio. Proprietario, non direi. Se fosse stato il proprietario, fosse stato, diciamo, gentile e garbato, no? Quei che dite? Scusi, buon uomo. Che sta a faa? Ammazzalo. Guarda qua come è ubriaco. Pesto di primo mattino. Altro che vero proprietario. Dunque, ecco qui la nostra prima forca. Olè. Scusi, eh, se no ti inforco malamente. Ti inforchetto, eh, ti inforchetto. È una. E la seconda dovrebbe essere qui. E infatti. Allora, ragazzi, il titolo, come detto, è ancora in accesso anticipato. Mi scusi, signora forca. E non ci sarà tantissimo da vedere perché io prima di iniziare a registrare l'avevo giocato ed è veramente molto, molto corto. Quindi se vedete che vado abbastanza veloce, eccetera, eccetera, quindi già so dove andare, ad esempio, a far cose. Però per chi non l'ha mai provato, eh, sappiate che è un bel gioco ed è veramente molto, molto corto. Dunque, allora, apri le porte principali della fabbrica. Quali queste? Ok. Ma facciamo tutto quanto con le solite chiavi? Ah, vabbè. Prendi la spazzatura e getta la via. Questa? Bene. Posseduta anche lei dal demonio. Michael Jordan Style. Voilà. E che ne sapete voi? Altro che. Allora, acquista una scopa nel negozio di attrezzi. Però aspetta. Fatemi finire di togliere almeno tutta quanta la spazzatura. Allora, questa è spazzatura. Questa qui anche. Putta via. Putta via. Oh, signori, sono sempre punti, eh. Ora non vorrei dire ma sono sempre punti. Aspetta, va. Prima di acquistare lo scopone là, ermocio. Aspetta. Hai ricevuto un nuovo elemento di messa a punto. Neon. Ah, ok. Bene. Perfetto. Guarda qui. Ammazza quanta sozzeria che ci sta in giro. Aspetta che l'abbiamo trovato delle altre cose. Abbiamo trovato un combustione messa a punto. Ah, vabbè. Oh, signori. Meglio che niente. Vabbè. A parte il fatto che mo qua devo staffare sempre avanti e indietro, avanti e indietro. Però meno male soltanto che abbiamo la fiducia di Michael Jordan Style. Eh, che cos'è? Altro che. Olè. A posto. Dove era l'altro sacchetto? Eccolo qui. Come detto ragazzi, sicuramente quando lo lasceranno in versione completa, sicuramente ci sarà da perderci il tempo, da sbizzarrirsi, da fare cose. Insomma, possiamo assumere anche operai, eccetera, eccetera. Io per il momento sono qui a pulire, eh. Non è che sto a fare l'operaio vero e proprio. Anzi, dopo vi faccio vedere. Anzi, ve lo faccio vedere adesso. Guardatelo qui. Il nostro mega operaio. Signori, un tipo elegantino, no? Voglio dire. Guardate qui. Giacchetta, cravattella, camicia, il caschetto naturalmente e anche il gilettino. Oddio, forse magari l'avrei vestito un pochettino leggermente diverso, perché il blu, secondo me, a mio parere, non ci azzecca da nessunissima parte. Forse magari se avrebbe optato per una camicia o bianca o nera o grigia, magari almeno la giacchetta magari l'avressimo, o meglio, se l'avrebbe cambiata, no? Allora, vediamo un attimino. Ecco qui Ermocio. Acquista Ermocio, va. E mi scusi? Che cos'è? Ermocio Vileda? O il pelo di gatto? Mi scusi? Ah, ok, benissimo. Vai, vai. Pulisci tutto. Vada, vada. Pulisca tutto. Olè. A posto. Allora, acquisto il banco degli attrezzi. Per il momento, ragazzi, non lo vado ad acquistare, perché mi vorrei concentrare anche, diciamo, sulla pulizia della nostra azienda. Allora, metti da parte questo. Dai, è qui. Olè. Altra spazzatura. Perfetto. Olè. Dunque, Aridami Ermocio Vileda qui. Questa qui però non la posso togliere, giusto? No. Guarda qua, ammazza quanta roba. Vabbè, secondo me l'azienda, o meglio, la fabbrica si dovrebbe stendere anche da questo lato. Come detto, ragazzi, per il momento noi abbiamo questa parte, poi dopo si sbloccherà quella parte dove c'è un solo macchinario. Mentre qui, invece, arrivano i camion per scaricare, camioncino o pick-up per caricare quello che facciamo e poi dopo, basta, finisce il gioco perché, come detto, è molto molto corto. Allora, qui non ho capito che roba è. Fatemi vedere. F afferra bombola di gas. Ma la posso buttare? O è per rifornire questo? No. Allora, vedete che in basso ci sta la benzina? Non so se, ad esempio, possiamo rifornirlo. Ah, aspettate, la bombola. Ah, ecco, la bombola di gas era per qui. Ah, ok, quindi allora questo qui va a gas, non va a benzina. Pensavo che andasse... Ah, ok. Una volta che lui, diciamo, tra virgolette, finisce il carburante, possiamo andare a prendere lì la bombola di gas e sostituirla a quella consumata. Ok, va bene. Allora, io stavo dando una mezza ripulita qui. Fatemi finire di ripulire. Sì, perché sennò poi altrimenti il video uscirà troppo... acquisto un banco degli attrezzi. Però aspetta, prima di acquistare il banco degli attrezzi vorrei finire quantomeno di recuperare un po' di spazzatura. Olè! A posto. Meno male soltanto che il caffettino che ci siamo presi di primo mattino sta durando. Sì, perché, come detto, per lo sprint serve il caffè, perché lo sprint non c'è di per sé a posto. Oh, signori, so sempre punti, quindi punti reputazione, so sempre buoni, belli che accettati. Qui non so che cosa ci sarà magari in futuro quando andremo a sbloccare completamente il gioco, o meglio, acquistando il gioco su Steam, perché, come detto, non si sa ancora quando possano rilasciare la versione completa del gioco, perché, come detto, è uscito il 13 di marzo, e quindi, come detto, non si sa quando rilasceranno la versione completa. Io ospiro al più presto. Dunque, allora acquista, eccolo qui, perfetto. Strumento sbloccato, ottimo. Oh, signori, ottima cosa, eh, ottima cosa. Equipaggia con la tua cassetta, equipaggiati con la tua cassetta degli attrezzi. Ok, ed eccola qui. Usa la tua cassetta degli attrezzi e avvita tutti i bulloni, che sono questi qua. 3 e 4, perfetto. Eh, sì, dovete scendere praticamente man mano che scende la chiave, con il mouse, perché sennò vedete che si blocca a posto. Figlia pure qui. Allora, abbiamo un bel po' di denaro da parte. Quel denaro, ragazzi, ci servirà per acquistare il macchinario per fare cose, che tra un po' andremo a vedere, perché, come detto, ragazzi, io, prima di iniziare a reccare, ho dato uno sguardo al giuco e praticamente l'ho finito, insomma. Ok, a posto. Allora, trova il primo supporto per il tuo deposito, che sono questi. Quindi basta andare vicino, cliccarci e lui lo mette in modo automatico. Però aspettate perché mi devo fare un caffettino. Aspettate, aspettate un attimo. Tagliere il caffettino. A posto. Non ho neanche letto quanto costa un caffè. Oddio, in un'azienda non è che costa chissà quanto, va bene? Noi siamo, credo, il capo. E quindi noi lo prendiamo qui, il caffè, nel nostro ufficio, mentre invece roba di operai, eccetera, vengono qui a, insomma, prendersi il caffè e bevande. Allora, dammi questo. Olè. O lo piazzi qui, o lo piazzi sotto. Prendi questo. Scusi. E pia... No. E vabbè, niente. Ok, allora, vai al computer per sapere di più e consultare le condizioni di investimento. Ok, vediamo un po'. Acquista una nuova estensione per la tua fabbrica. Che dovrebbero essere? Allora, andiamo a vedere un attimino in... con più particolari. Abbiamo gli aggiornamenti che sono soltanto questi due. Questi due. Poi abbiamo la consegna che sono sacco di malto grezzo, sacco di lupolo grezzo per fare la birra e il lievito industriale che sono ancora bloccati, essendo ancora un gioco in fase di demo. Poi abbiamo i contratti che per il momento sono bloccati, però più andiamo avanti e più ce li sblocca. Abbiamo il produttore locale, il mercato industriale. Vedete che qui possiamo addirittura acquistare dei pallet semplici oppure delle strutture, perché dentro la nostra fabbrica possiamo andare a mettere le altre strutture di stoccaggio. Poi abbiamo i subappaltatori, che sono sacco di malto schiacciato, sacco di lupolo schiacciato. Poi abbiamo investitore, qui possiamo prendere in prestito dei soldi da 1000 fino a 25.000, però il denaro prestato è 25.000, però con gli interessi insomma 25% più 15% eccetera eccetera. Carrello elevatore, qui gli possiamo dare un colorito che più scigarba, ad esempio lo posso fare anche di un color rosso. Il motore è un butano o butano, oppure un propano, oppure un combustione, quindi più velocità a 25% che se lo vado ad installare rimane. Poi abbiamo uno spoiler, che lo spoiler magari lo possiamo fare anche di un color bianco, che poi non ho capito nemmeno do sta sto spoiler. Ah no, vuoto, perché non ne abbiamo. Qui abbiamo le ruote di base e le luci. Abbiamo il neon, perfetto, che il neon lo possiamo fare anche di un color bianco, perfetto. Poi abbiamo i dipendenti, ancora al momento bloccati, e poi abbiamo il birrificio che è ancora bloccato. Come detto, in fase di sviluppo non possiamo avere tutte quante queste cose. Ed eccolo qui, ammazza, guarda qui. Allora, vediamo un attimino, abbiamo il turbo, cambia la telecamera, segnale acustico, che però non va, esci dal veicolo, va bene. Allora, questo qui, signori, è il turbo, come potete ben notare, però consuma molto più carburante, naturalmente. Ok, a posto, allora, spegni, scendi e andiamo a prendere la prima estensione del nostro birrificio. Olè. Allora, vediamo un attimino, dove, 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 abbiamo le consegne, contratti, investitori, allora, dov'è che i raggiornamenti? Eccolo qui. Abbiamo la sala macchine numero 1 e la sala macchine numero 2, termina la costruzione di una nuova estensione, quindi dobbiamo andare a sbloccare questo, quindi acquista. Perfetto. E ci ha sbloccati, ora vi faccio vedere, questa qui, che qui, come detto, qui dobbiamo acquistare un nuovo macchinario, in questa parte, anzi no, dobbiamo sbloccare qui perché il macchinario si trova dietro queste tavole di legno. Qui non so, ragazzi, che cosa ci sia, però qui, come detto, possiamo andare a mettere tutte quante le aree di stoccaggio, tutte quelle che ci servono per poter stoccare per l'appunto tutti i materiali, eccetera. Bene, sblocca il frantumatore di cereali, però aspettate, prima di fare questo io vorrei dare una mezza ripulita qui, perché, come detto, ragazzi, per il momento dobbiamo farlo noi a mano, poi dopo possiamo assumere anche un dipendente che ci pulisce lui l'azienda, o meglio il birrificio a posto, perfetto. Scusa, prendi qui, per il momento butta fuori lì, non c'ho voglia di andare sopra e so, dove cacchio è arrivato non lo so. Recupera pure qui, abbiamo una scatola con struttura di base, struttura di base messa a punto, forse evidentemente per il nostro macinino del caffè qui, sicuramente. No, e vabbè, Michael Jordan Style stavolta ha fallito, e vabbè, comunque. Allora, vediamo un attimino, consegna, carrello, allora, vediamo un po' la struttura, ah, ecco, infatti, struttura, vediamo un po', no, aspettate, questo qui è rosso, la struttura, motore, combustione, spoiler, niente. Se va bene, quindi in base alle zone della spazzatura possiamo trovare dei miglioramenti per il nostro mulettino. Perfetto, andiamolo a vedere un attimino, giusto così, tanto per, e infatti eccolo qui. Allora, vai, sale. E niente, signori, non ci stanno i segnali acustici. Allora, con Q ed E vado ad alzare le forche, mentre con AL ALT posso andare ad attivare o disattivare le ancore, in modo che quando vado a prendere una pedana, quando diventano verdi, posso andare a bloccare la pedana sulle forche. E basta. Niente, tutto qui ragazzi, questo qui è il nostro macinino del caffè. Oh, scusate, pardon, 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 aspetta, eh, scusi, eh, se no va a finire che qua mi consuma gas. Ok, allora, vediamo un attimino, dov'è, 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 dov'è? Macchinario industriale, eccolo qui. Poi abbiamo il magazzino, i magazzini potenti, la soluzione per memorizzare di più. E poi abbiamo i serbatoi per la produzione della birra che, come detto, al momento sono ancora bloccati. Quindi acquista 7500 ed ecco qui il frantumatore per cereali. Nuova scheda disponibili nel menu di aiuto. Allora, accetto il contratto nel computer. Allora, come detto, i contratti, eccoli qua. I contratti, come potete notare, qui è la beer distributor LLC, quindi un subappalto. Raffinare 26 sacchi di malto grezzo che ci paga ben 1310 più 34 punti. Quindi o possiamo rifiutare e aspettare un altro tipo di contratto oppure accettarlo. Una volta che l'abbiamo accettato, vedete che dobbiamo ordinare un pallet di sacchi di malto grezzo. Perché, come detto, qui dopo devono venire schiacciati. Quindi la consegna. Vedete che adesso ci ha sbloccato il sacco di malto grezzo. Come detto, ne servono. Non lo so, vediamo un po', perché comunque sia il numero usato non ce lo dice. Però, vedete che ID contratto 001, malto schiacciato e esportato 26 sacchi. In questo caso, devo andare a prendere ben 26 sacchi, che mi costano 40 l'1, quindi 26 sacchi. Carrellino giallo, quindi sacco di malto grezzo, 26. Prezzo totale 1000 e non lo posso prendere. No, quindi reset. Aspetta, noi abbiamo 1000. Quindi 26. 9, 9, 18. 10, 10, 20. 13. Dobbiamo prenderne al momento 13. Perché non possiamo fare. Aspettate, 13, 14, 15. Ecco, già 24, anzi con 25, già andiamo a sforare il prezzo. Quindi totale tasse incluse. Mamma mia, ammazza. Signore, abbiamo finito completamente tutti i soldi. E vabbè, comunque abbiamo 36 dollari. La me ne dice 26. Aspettiamo che arriva il camion. Questo qui, una volta che abbiamo fatto il tutto, possiamo caricare la pedana qui. E lui parte in modo automatico. Olè, a posto. Scusi, buon uomo, eccomi. Aspetta, eccomi un attimo, lascia fare. Facciamo un po' di retro. Sì, è un po' buggato, come potete ben notare che la coscia del tipo sta a fare così. Manco se fosse un prosciutto. Ok, va bene. Allora, qua abbiamo ben 24 sacchi. Allora, aspetta. Alza. Vai, vai, vai. Infilza tutto. Manco se fosse un porcum. O uno spiedino. Allora, è troppo. Aspetta che è un tern all'otto. Vedete che quando diventa verde, io posso andare, sì, ad alzare, però devo anche bloccare. Quindi vado ad alzare un pochettino. Ok, a posto. E adesso lui se ne va. Noi portiamo questi qua con il turbo fino alla sotto. Lo dobbiamo scaricare qui. Come detto, è molto molto carino come gioco. Perché comunque sia, al momento potrebbe essere un po' troppo ripetitiva la cosa. Però vi assicuro, ragazzi, che è veramente molto molto carino. Accendi il tuo nuovo frantumatore per cereali. Scusate. Olè. Sempre la solita chiave. Come potete ben notare. Allora, power qui è sporco. Quindi dobbiamo pulire un attimo. Scusate. Olè. Olè. E olè. Perfetto. Dopodiché, prendi il sacco di risorse dal pallet. Quindi, aspettate, andiamoci a prendere un caffettino. Ma non vi preoccupate, ragazzi, per la spazzatura. Perché quando andremo ad assumere un nuovo operaio, gli possiamo dire o di stare vicino al macchinario, oppure di darci una ripulita all'interno della nostra fabbrica. Allora, preparati un caffè. Non ho nemmeno letto. Era un dollaro? Ammazza. Un dollaro per un caffè? Mi sembra quasi una mezza truffa. Voglio dire, noi qua lo paghiamo un euro e dieci. Mentre qui invece un dollaro per un caffè. Vabbè. Comunque, va bene. Ok. Allora. Prendi uno. Ma perché li devi andare a prendere da sotto? Qui invece possiamo cancellare il carico. Possiamo andare a dare uno sprint alla macchina. Oppure possiamo invertire la rotazione dei nastri. Quindi invece di andare su, vanno giù. Quindi se io vado qui, vedete che in tal caso aumenta la velocità. Però non rimane in modo automatico. Quindi opera a posto. Abbiamo fatto i mega danni. Già iniziamo... Eccola. Oh. Che è successo? Buon uomo? Scusi. Perché è vuota? Che è successo? Ho fatto danno? Che cavolo è successo? Perché si è bloccata adesso? Allora. Ah. Dobbiamo raffinarli. Qui si raffinano i sacchi. Raffino un sacco di mal. Trovi suggerimenti nella scheda frantumatore di cereali nel menù. Ma scusate. Ma perché non escono? Scusate. Ma si è buggato. Ma si è buggato il gioco. Si è buggato il gioco. Aspetta va. Appoggia qui. Appoggia qui. Appoggia qui. Allora aspetta. Cancellami tutto. Ok. Aspetta. Cancella. Cancella. Ragazzi. Me li sputa fuori. Qui non ho capito che cavolo è successo. Ma va bene. Vai buttali. Prendi qua e butta qui. Olè. A posto. Qua bisogna invertire. Qua bisogna andare avanti. Forse magari si era incippata un attimo. Non lo so. Vabbè. Comunque. Vediamo. Tacete. Come detto ragazzi. Dobbiamo stare noi qua vicino. Sia per mettere il sacco del malto. Che anche per dare uno sprint alla macchina. Però mi raccomando. Non li mettete l'uno sull'altro. Sennò qua si incastrano. E succedono casini. E quindi. Già provato. Già testato. Quindi. Lasciate fare. Dai. Un po'. Forza. Un po'. E che cos'è? Mamma mia. Ammazza che lentezza. Ho capito che stiamo lavorando come dei pazzi da stamattina. Non so. Che ora siamo arrivati in questa fabbrica. Sicuramente alle 5. Barra 6 di mattina. E stiamo ancora qui a mezzogiorno. A buttare sacchi qua dentro. Anzi qua sopra. E che cos'è? Dai. Un po'. Forza. Come detto ragazzi. Noi possiamo anche sprintare la macchina. Però come detto. Dobbiamo farlo noi. Però se possiamo. O meglio. Se assumiamo un. Un tipo. Sta lui qua vicino. Quindi noi carichiamo. E lui sprinta. Come se non ci possano domani. Bene. Aspetta. Poggia. Figlia qui. Poggialo qui. Figlia qua. E poggialo qui. Allora. Questa qui signori. La possiamo anche buttare qui. Però. Mi serve per. Aspetta. Com'è che era? Il ripristino. Ok. A posto. Allora. Se io adesso vado a mettere la pedana qui. Vi faccio vedere che. Se io vado qui. Quindi a raffinare i sacchi. Iniziano. Dovrebbero uscire i sacchi. Eccoli. Infatti. C'è da aspettare un pochettino ragazzi. Perché come detto. Noi non possiamo andare a sprintare la macchina. Perché. O facciamo una cosa. O facciamo l'altra. Quindi. Io uno su uno. Non posso fare due cose su un macchinario. Dai. Forza. E che cos'è? Ammazza. Quanto tempo stai? E come detto ragazzi. Purtroppo. Bisogna aspettare. Abbiamo finito? Ok. Perfetto. Quando la macchina si ferma. Vuol dire che abbiamo finito. Quindi. Qui dovrebbero essere ben. Ben tro sacchi. Dovrebbero essere 24 sacchi. Dai. Su. Forza. Sprinta. Ammazza quelle cosce lì. Sembrano quasi dei prosciutti. Andati a. E vabbè. Comunque signori. Cariche. 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 Impala tutto. Alza un po'. Vai un po' indietro. E tacche. Ed è a posto. Allora. Questa qui. Adesso. La dobbiamo posizionare. Sul. Pick up. Vedete che. Esporta la tua prima produzione. Per farlo. Caricare la tua pallet. Piena di risorse. Raffinate. Nel tuo bagagliaio. Del pick up. Non siamo noi. Ad andare a consegnare. Ma. Lo fa in modo automatico. Basta che io vengo qui. Mi avvicino piano piano. E tacche. Sono 24. Quindi. Ne dobbiamo fare. O facciamo altri due. Ma altri due ragazzi. Non li posso fare. Perché non abbiamo soldi. Quindi. Spegni. Scendi. E andiamo qui. Andiamo a. Confermare il contratto. Allora. Contratto. Ci pagano 1.300. Quindi conferma. Non lo posso confermare. Perché. Come detto ragazzi. Sono 24 sacchi. E non 26. Quindi. Non posso confermarlo. Ora. Possiamo chiedere ben. 25.000. Perfetto. E posso andare a prendere. Dove. I contratti. Non lo posso ancora fare. Quindi la consegna. Sono 24. Quindi altri due sacchetti. Eh. Signori. Si. Mi conviene. Quindi 85. Maga. Madonna. Totale 80. Spese di consegna. 5 tassi incluse. Madonna mia. Vado a pagare veramente così tanto. Eh. Vabbè. Signori. Che vedevo lì. Perché. Come detto. Vedete che. In tal caso. Qui. In contratto. Non posso andare a. Concluderlo. Perché. Come detto. Ci mancano. Un paio di. Di sacchetti. Eh. Vabbè. Signori. Purtroppo. Non avendo soldi. Non potevo fare. Altrimenti. Eccomi. Sono qui. Cacchi dei suoni. Apri qua. Tagli un po'. Metti in muo'. Mamma mia. Però i tasti sono veramente. No schifo. Sì. Perché. Praticamente. Sono tutti quanti l'uno vicino all'altro. Sono troppo l'uno vicino all'altro. Oh. Pera. Aspetta un attimo. Me son castrato. Vai. Forchetta tutto. Forchetta tutto. Dagli. Tiralo giù. Alza. Fissa. E tira indietro. Vai. Vai. Sprinta come se non ci fosse un domani. Dai è così. Dai è così. Ma se ne sta andando? Sì. Se ne sta andando. Ok. Perfetto. Ok. Vai. Vai. Lascialo qui. Anzi. Non aspettate. Senza che lo abbassi. Va. Facciamo così. Scendi. Anzi. Non aspetta. Spegni. Scendi. Pigli il sacco. Conso. Pogli il sacco. Conso. Pigli il sacco. Conso. E mettilo qua. Ora. Possiamo andare a. Sprintare. Perché. Come detto. Ora. Noi lo possiamo fare. Ole. A posto. Vai qui. Taglio un po'. Non è. Ah ok. Mostra va a dire che. Non esce niente. Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto danni. È a posto. Ottimo. Allora. Facciamo così. Zacchete. E loro vanno a finire direttamente là sopra. Bene. Oh signori. Più comodo di così. Guardate. Se muore. Eh no eh. No. Dove vai? Devi andare qui. Ok. A posto. Come se niente fosse successo eh. No. Aspetta. Togli il freno a mano. Scusate. Ho sbagliato tasto. Adesso possiamo. Concludere il contratto. Perché. Come detto. Ci mancavano un paio di. Sacchetti di. 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 Immondizia. Ok. Allora. Aspetta. Alza. Aspetta un attimo eh. Olè. Vai vai. Parta. Parta. Parta buon uomo. Olè. A posto. Scendi. Come detto ragazzi. I tassi sono un attimo un po' troppo complicati. Ok. A posto. Quindi vedete che è 26 su 26 è verde. Quindi. Andando qui in contratto. Ci danno 1000. E passa. Dollaroni. O monete. Ora dobbiamo aspettare il. Prossimo contratto. Possiamo assumere un nuovo. Lavoratore. O meglio un nuovo dipendente. A posto. Rimborso. In sospeso. Che significa? Ah forse magari si prende. Oddio. Ma com'è che gli diamo indietro questi soldi con gli interessi? Sicuro. Allora. Derek Johnson. Derek Johnson è un dipendente entusiasta. È determinato che è desiderioso di imparare la produzione di birra. Non è vero perché se è in alcolizzato abbiamo fatto i cavoli nostri. È un apprendista veloce. Attento ai dettagli. Lavora facilmente in team. In team per raggiungere gli obiettivi di produzione. È anche flessibile. Motivato a lavorare. Sodo per raggiungere i suoi obiettivi professionali. E non. Allora. Si prende 7 dollari e 50 all'ora. Costo della selezione 50 dollari. Livello 1. Quindi assumi. Allora. Vediamo un po'. Dipendente assunto 1. Periodo stipendio. Salario. 7 dollari e 50. Tempo di lavoro dovuto. Ok. Quindi lo possiamo anche licenziare. Perfetto. Vediamo un po'. Dov'è? Sta arrivando sì? Non lo so. Non so dov'è. Vabbè. Noi comunque signori ci andiamo a fare un buon caffettino. Vai qui. Oh buon uomo. È arrivato? Ma che ne so. Eccolo lì. Eccolo lì. Alla buon uomo. Ammazza. Ma che zoppo? Non lo so. Comunque. Non mi sembra il caso. Va bene signori. Va bene. Allora. Ora vi faccio vedere come possiamo dirigere i nostri dipendenti. Se andate vicino a lui. Gli potete dire che per il momento può soltanto pulire. Però se c'è un lavoro vicino alla macchina. Gli potete dire di stare vicino. Per l'appunto alla macchina. Quindi livello necessario. Sblocca la protezione. La postazione di lavoro. Ah ecco acquista. Quindi lavoratore GC. Lo possiamo mettere vicino alla macchina. Esperienza. 10 su 20. Costo 400. Livello successivo. Sblocca la postazione di lavoro. Elaborazione. Perfetto. Quindi aspetta. Lavoratore GC. Allora è arrivato al livello 3. Però elaborazione. Vediamo un po'. Convalida. Elaborazione frantumatore per cereali. Quindi quando arriverà un nuovo carico. Credo che lui dovrebbe prendere i sacchetti e metterli lì. E io magari posso stare lì dove che si raffinano eccetera. Vabbè comunque. Andiamo a vedere signori per un altro tipo di contratto. Allora contratto. Eccolo qui. Dobbiamo raffinare 30 sacchi di malto grezzo. Quindi accetta. Consegna. Malto grezzo. 30 sacchi. Vediamo un po'. 30 sacchi. Eccoli qua. 1000 passa. Quindi ordina. Perfetto. Credo che dovrebbero essere più o meno un paio di pedane. Non lo so. Ora. Vediamo un po' com'è che funziona il tipo lì. Perché come detto ragazzi. È molto molto corto come gioco. Però è molto rivassante. Ed è molto bello anche. Quindi. Vai. Damos. Eccomi buon uomo. Arrivo. E arrivo. Che ti suoni ogni cavolo di volta. Aspetta un attimo. Scendi di qua. Apri qui. Vai qui. Aspetta un attimo. Prima che ti faccio fuori il coso qui. No. Aspetta. Bass. Olè. Ottimo. Aspetta un po'. Oh. Piano. Perché questo qua parte a razzo. Vai. Blocca. Esci. Allora. Aspetta. No. Aspettate. 30 sacchi. Ah no. 30 sacchi. Ok. Perfetto. Pensavo che fossero due pedane. Quindi da 15 l'uno. Anche se sono 30. Però pensavo che lui. Non poteva portare più di 30. Ok. Perfetto. Ottimo. Allora. Vediamo un attimino com'è che funziona adesso il nostro operaio. Vediamo un po'. Io. Adesso la provo a scaricare. Lui ancora deve arrivare. Però scusa buon uomo eh. Se devo fare tutto io. Hai capito male. Allora. Dov'è? Stacca. Foggia. Torna indietro. Ok. Spegni. Dov'è l'operaio? Eccolo qua. Ma scusi. Elaborazione. Ah sì. Infatti. Allora. Lavoratore. Convalida. E quindi. Aspetta. Va ma che. Ah. E sì. Infatti. Quindi. Sicuramente. Non so quanti sacchi sono là sopra. Però. Ora vediamo. Fatemi vedere soltanto l'operaio che fa. Se va a prendere i sacchi o meno. Aspetta che mi tolgo eh. Sì. 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 Lo fa. Lo fa. Lo fa. Ok. Ok. Perfetto. 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 Ottimo. 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 No. E dai. Quindi noi possiamo soltanto andare lì. Prendere la pedana. E metterla sotto lì. Per poter fare tutto quanto il resto. O meglio. O forse magari. Possiamo metterlo come. Come l'altro tipo di incarico. Quindi vicino al macchinario. Per raffinare. Ora vediamo eh. Ora vediamo signori. Com'è che funziona. Perché mi sto triggerando malissimo. No. Scusi. Scusi. Ma non è così che funziona un muletto però eh. Allora. Attacca. Alza. Quanti ne stanno? Due. Quattro. Sì. Quindi sono. Trenta. Ventiquattro qui. E sì. Qui. Ok. Perfetto. Guardatelo lì. Come sta a lavorare. Come se non ci fosse un domani. Come detto. Forse magari. Mi posso spostare. Un attimino qui. E gli altri magari. Gli posso piazzare io là. Ok. E quindi lui adesso fa tutto quanto il lavoro. Vediamo un attimino ragazzi. Pure. Come è che funziona. con. Oh 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 oh. Piano. Piano. Come è che funziona con il tipo. Se magari lo posso far mettere anche lì a raffinare il tutto. Allora. Al momento. Aspetta. Abbassa. Che sta facendo? Non lo so. Allora. Aspetta. Abbassa. Togli. Abbassa. Olè. Vediamo come che funziona. Io. Lui ora sta lì. Elaborazione. Quindi ho fatto lavoratore. Quindi convalida. Vediamo un po'. Vediamo. Ok. Quindi la mia teoria è giusta. Ora. Lui dovrebbe far. Ok. Signore ci siamo praticamente sbancati di andare a prendere nel sacchetto di metterlo lì di ritornare lì e di fare il lavoro che sta a fa lui. Noi praticamente scarichiamo e portiamo la roba lì. Ok. Quindi al prossimo magari. Tanto questa qui la posso prendere pure così. Adagiala qui. Come detto. Al prossimo carico possiamo fare anche la stessa identica cosa. Ci siamo veramente messi in una posizione veramente molto molto bella. Insomma. Io qua che gestisco la mia fabbrica di birra. Ci sta. Ma. Mi scusi. Mi scusi. Buono. Ma. Ma. Mi scusi. Ma. Non vede che non ci va più niente qui? Aspetta va. Adagialo qui. Vabbè dai su. Questo qua me lo faccio io sta lavoro dai. Sì perché. No. E niente. Maledizione. Perché essendo praticamente. Così. Tot. Tot sacchetti. Quindi è normale che lì poi dopo non ci va più nulla. Aspetti buon uomo. Si tolga. Si tolga. Perché il suo dipendente. Anzi. Sì. Il suo datore di lavoro fa un attimino di confusioni. Levati. Oh signori capisce. Capisce che se deve levare dei maroni. Se no qua va a finire male per tutti. Aspetta. Scusi. Un attimo di pazienza. Un attimo di pazienza. Aspetta un attimo. Scusi. Un attimo di pazienza. Pura lì. Olè. A post. Damosi. Andiamo a caricare va. Scusi. Ma dove va? Ma dove sta andando? Vai alza. Olè. Aspetta. Carica. 24. Perfetto. Mo andiamo a pigliare gli altri. 24. Dovrebbero essere altri sì là sopra. Sempre se qualcuno non si è sminchiato nel frattempo. 24 e 226 e 228 e 230. Ok. Perfetto. Ottimo. No. Pensavo che qualcuno si fosse sminchiato un attimino. Allora aspettate. Al nostro dipendente. Aspetta. Vai qua. Dai. Inforca tutto. Dai. E così. Inforca tutto. Vai. Al nostro dipendente magari gli possiamo dire di dare una mezza ripulita al nostro capannone. Ok. E lui nel frattempo va in giro a recuperare spazzatura. Quando arriverà il prossimo carico allora magari o meglio quando accetteremo il prossimo incarico dovrà andare lì vicino al macchinario come ha fatto adesso. Aspetta. Olè. Ottimo. 30 sacchetti ci stanno quindi va benissimo così. Spegni. Scendi. E convalida il nuovo contratto. Conferma. Raccogli. Olè. Ottima cosa. Quindi. Nuovo slot per contratto. Dipendenti. Niente ancora. Apposto così. Sì perché con due dipendenti uno può stare a mettere i sacchi là sopra l'altro invece li può raffinare diciamo così raffinare o meglio raffinare e schiacciare i sacchetti. Allora i contratti. Ah ecco adesso ne abbiamo praticamente un paio. Quindi ne possiamo fare ben due. Uno 1.300 l'altro 1.500 qui 30 e qui 25. Allora io direi di fare questo qui ragazzi. Vi sei considerato che qui mi fa praticamente due viaggi. Io direi di fare questo qui perché comunque sì dobbiamo arrivare a 5.30 però con 25 poi sicuramente poi dopo andiamo a sfiorare. Quindi 25 sacchi. Accetta. Consegnami 25 sacchi. Anzi no aspettà sì. Facciamo direttamente 25 e chi se ne frega. Perfetto ottimo. Aspettiamo che arriva il signore lì. Perché come detto dobbiamo esportare totali 50 sacchi di malto schiacciato. Quindi sicuramente con i 25 andremo a sfiorare i 50. Però sono 32 e 50. Saranno 55. Vabbè o comunque. Signori non fa niente perché. Come detto. Noi arrivo. Eccomi buon uomo. Oddio che è successo. Ah ok. Pensavo che si fosse rotto qualche cosa al nostro bolide qua. A posto. Scendi un attimo. Apri qua. Olè. Sa. Accendi. Sali. Fai. Dici. Perché. Mamma mia. Aspetta un attimo. Perché come detto è molto complicato girare sto robo qua. Perché girano gli pneumatici. O meglio. Gli assi anteriori che gli assi posteriori. Carica. Carica. Olè. Attacca. E damose. Allora. Ora andiamo a chiamare anche il biondo. Gli facciamo fare praticamente il doppio lavoro. Ecco che perché secondo me. Un pallet dovrebbe stare là davanti. Eh sì. Secondo me sì. Allora aspetta. Magari glielo posso mettere anche un pochettino più vicino. Magari almeno così non deve fare tante coiate pure lui. Oh signori. Io ai miei dipendenti ci tengo eh. Non è che stiamo a fare qua i pierloni. O meglio gli abusivi qua. Oddio. Siamo un po' abusivi. Però. Allora stacca. Vai. Olè. Scendi. Scusi. Buon uomo. Ando sta? Nel frattempo questo costa butta spazzatura come se non ci fossero domani. Ah aspetta. Ma come? Ma scusi ma 25 sacchi dove? Mi scusi buon uomo. Venga qui. Allora lavorazione con valida. Vai. Oh ma che? Ma. Ma ti pare il caso? Ma mi scusi? Ma che se fa così con una persona? E dai. Ok. A post. Stiamo se va. No. E dove vai? Ma. Scusami. Ah vabbè sì. Fino qua. Oh piano. Piano che io qua te metto sotto eh. Ma va a lavorare va. Aspetta. Fatemi vedere. Ok. Fino a quando esce il cerchiettino sulla capoccia. Vuol dire che sta a lavorare pure lui. Ma aspettate. Ma là non erano 25 sacchi. Ma scusate. Non mi dite che praticamente la so 20 sacchi e qua ne so 5. Ma te pare? Ma ve pare? Cioè io mo per un sacco te lo devo lasciare così. Uh. E vabbè. No. Aspetta eh. Abbassa. Vai qua. Alza. Cioè ma vi pare? Per un sacchetto di roba qua io devo fare tutto sto casino? Eh vabbè signori che devo dire. Vabbè buon uomo va. Sai che c'è? Metti pure questo qua là sopra. Tanto quando esce l'ultimo so che insomma va un attimino a sballotolare. Vai vai. Lavora. 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 Lavora come se non ci fosse un domani. Aspetta eh. Un attimo. No. Piano. Aspetta un attimo. Vai abbassa qua. Aspetta. Vai un po' più in qua. Olè. A posto. Abbassa. Perché io vado a disattivare sempre. Le forche qua ma. L attiva ancore. Oh signori non funzionano più. Ah no aspetta. Ok. No dove vai? Lascia sta roba. A posto. Allora lui ha fatto bene. Buon uomo venga qui. Elaborazione. Dai. A posto. Vada vada. Lavora lavora. Lavori buon uomo lavori. Eh che cos'è? La pedana non deve più stare là davanti. Perché sennò vedete che si va ad incastrare un attimo. Quindi meglio non farla sta roba. Oh signori stiamo arrivati più o meno ad una mezz'oretta di registrazione eh. Allora la sicura eh sì infatti la sicuramente si sta accumulando un bel po' di roba. Vai lavora lavora che sta a guardare a me. Ma che te pare che sta a guardare a me? Vai vai lavora lavora. Allora qua sicuramente dovrebbero essere 20. Eh sì infatti so. Dovrebbero essere 24 più 1 25 a ferra. Oh vabbè signori io lo posso pure lasciare così eh mo. Non vorrei dire ma aspetta 24. Ah non me lo conto. Che cavolo è successo? E niente. Non me lo conta forse magari. Giusto? Sicuramente no non me lo conta. Aspetta va. Vai 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 a pulire. Ok a posto. Ma scusate ma che cavolo è successo? Ma perché mo si sta andati? Signori mo non sto a capire niente eh. Mo mi sa tanto che mi si sta sminchiato tutto. Allora vai qua. No aspetta va. Alza. Eh sì infatti mi sa che mi si è sminchiato tutto. Mi si è sminchiato praticamente tutto. Ma porca di quella. Iper porca. Ma perché? Vai caricati sti pa. Eh infatti signori abbiamo finito praticamente il gioco. Ok. Ok. Che so. Ah no aspetta. Ma non abbiamo finito il gioco. O no. O sì. Boh. Signori non lo so. Allora ci sta facendo vedere robe. Che sicuramente queste. Ah è fatta. Hai raggiunto la fine. La fine della versione demo. Grazie per aver messo alla prova questa versione. Spero che l'anteprima di Beer Factory ti sia piaciuta. Se hai domande suggerimenti o commenti visita Discord eccetera eccetera. Ok va bene va bene. Eh dai ragazzi allora forse magari Music Store Simulator è anche da provare. Già l'ho visto su Steam in modo gratuito sicuramente. Andrò a provare anche lui. Bene ragazzi dai allora arrivati a questo punto io direi di concludere qui questo unico episodio di Beer Factory. Prorogo è tutto mi raccomando fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. Mi raccomando vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video. E noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.